Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. Dijon, Meuvert, Montbéliard et Tournu. Débat gratuit sur inscription. Programmation complète du Festival des Solutions Ecologiques sur jeparticipe.bourgognefranchecompte.fr jeparticipe.bourgognefranchecompte.fr On compte sur vous. Io penso che Chadia Rodriguez debba un attimo mettere da parte le marchette, il moralismo, il bisogno di stare sempre al cellulare e deve un attimo fermarsi e fare un attimo la sua musica. Una musica che va al di là degli ideali che vuole portare e via dicendo. Vorrei che esca un po' dal suo ego trip. A me è piaciuta ad esempio le donne che odiano le donne, è piaciuta molto. Ad oggi che è passato un po' di tempo mi rendo conto di cosa significava per lei quel brano, molto personale. Però adesso lei si è presa, diciamo, questa nomea sua personale da paladina, diciamo, delle donne, delle sofferenze femminili. E ci sta, ci sta, ha ragione. Però un artista non può essere solo questo, perché lei per sposare questa causa, questo aspetto di sé, ne tralascia tanti altri. Intendo dire che con Bella così quella causa l'ha presa e l'ha portata in alto, al top. Ha detto quello che doveva dire, l'ha fatto bene, ok, adesso cambia. Non stiamo sempre sulla stessa cosa. E questa canzone fondamentalmente un po' si distanzia dal femminismo totale suo, che mette il culo tutti i giorni, perché io la seguo. A me piace molto, cioè, sia musicalmente che come persona. È uno spirito libero, è una ragazza giovane, fresca. È una ragazza che, secondo me, merita. Per questo ne parlo con convinzione, perché so quello che sto dicendo. Però sta lì a mettere il culo su Instagram tutti i giorni. Ha il sacrosanto diritto di farlo. Ma non capisco perché poi ogni due o tre giorni deve fare la sua sclerata contro qualcuno che magari gli commenta. Cioè, se tu sei veramente libera, sei libera anche di fregartene. Sei libera anche, l'hai detta una volta la tua, ci hai fatto tre o quattro canzoni, basta. Cosa c'entra questo col brano? C'entra. C'entra perché se uno sta sempre in questo mood di metto il culo, mi commentano, si incazzano, faccio il brano, allora sto così, faccio il brano su questa tematica. Poi non esce mai da quel trip. A me mi sembra un cane che si morde una coda, che si morde la coda. E tra l'altro, essendo giovanissima, avendo un successo abbastanza grosso, quello che ha avuto lei, ehi, a un certo punto ti ritrovi che, un attimo, non sai neanche più tu chi sei, per cosa combatti, cosa pensi davvero. E quindi va a finire che la tua musica, anche quando spacca, perché questo brano spacca, c'è una strumentale della Madonna, e a me piace molto lei come l'affronta, però a fatti concreti, nonostante spacchi, nonostante tutto, secondo me non andrà forte. Poi è una marchetta. Il brano Marchetta non andrà forte ed è già sentito da parte sua, io già l'ho sentita sta roba da parte sua. Non ti sto a dire che siamo tornati ai tempi di Coca-Cola, in cui proprio tocco il fondo. Però, poi la Marchetta, questa roba per un film, ci sta, lo capisco, i soldi, la situazione, la strofa di Alice Pagani che la recita, io sono rimasto a libido, pensavo che era quella di Tornello, non mi sembrava, cioè ti ho detto, oddio, questa mola stanno a far cantare, oddio. E invece poi dice, vabbè, ma può essere che te la canta bene. E invece no, era una piccola strofetta recitata, un classico, per mettere il nome, per fare click, capito? Tanto voleva fare una frasetta in stile, questo è il pezzo mio preferito. Lo spessore è quello, fondamentalmente. Sì, lei dice cose più intense, il testo comunque intenso e sentito, però è molto adolescenziale, cioè è proprio adolescenziale puro, cioè io vorrei che lei facesse un upgrade, Chadia, perché sta roba, io capisco che la senti, e non è male, è forte, solo che è troppo per ragazzini. Cioè anche le frasi, cioè nel senso che dice Alice Pagani, sì, sono belle, sono forti, sono interiori, sono introspettive, dici che c'è, Chadia, sta roba, c'ho da dire che è una paraculata, sto testo è una paraculata, questo dico io, tutto qua. Cioè nel senso c'è un limite tra il fare il brano che ribalta, anche Bella così fondamentalmente è una paraculata. Perché però non suona come una paraculata? Perché quando Chadia dice frasi del tipo il corridoio della scuola era una tortura, lo dice in un modo in cui proprio ci sta il suo cuore, ed è tu lo vedi, lo vedi il corridoio della scuola, la vedi quella sofferenza, lo capisci. E quindi di conseguenza il testo, diciamo, teen ti diventa nazionale, ti diventa popolare, ti diventa per tutti. Però quel salto qua non lo va. E se non fai il salto, non è da 8 a 9, è da un potenziale 8,5 a 5. Questo è il problema. Poi se il brano, siccome la colonna sonora di una serie o di un film, viene spinto a palla e diventa una super hit, questo non lo so. Però il potenziale che questo brano prende spicca non ce l'ha. Molto semplice. Grazie. Grazie.